Ciao ragazzi, ben tornati a Genshin Impact, sono il vostro cocodrillo Marto 700 che vi parla e stiamo facendo l'evento di albedo e di agliato. Siamo... Mentre se riesco ad andare su... E questo? No, sbagliato, è questo. E siamo all'ultima immagine, ce ne manca solo una. Siamo passati giorno dopo, a mezzogiorno. E siamo di nuovo qua. Spero che il video precedente di studio abbia piaciuto. It appears everyone has arrived. Last night, I visited a former servant who once worked for my family. I was able to learn the entirety of what happened all those years ago. In my great-grandfather's generation, the Ishin art was tasked with forging an important goshinto according to an ancient forging diagram. However, they met fierce resistance from the craftsmen, and in the end, they were unable to prevent them from escaping by sea. The story of the five kassen seems to imply that the failure didn't stem from a lack of skill. But rather, the diagram had been tampered with by someone. Miss Kamisato, I heard yesterday that the Yashiro Commission has still kept the diagram ever since the failed forging all those years ago. Might I ask you to do me a favor? Yes, I understand. I will go back and search for the diagram. Please come meet me at the Kamisato estate later. I will go back and search for the first time. The last act. We have to go very far. As always. We have to go in the same city. No, in the Kamisato. They were talking about the Kamisato and the clan. Let's go immediately. We are outside the door of the Kamisato. We are entering. We are going to see if they are in the Kamisato house. So we are going to check to find the situation between the Kamisato. We can understand a little bit of the situation. eccoci qua è la stranza più piccola di tutta la casa che stiamo vedendo tutti oh la spada la spada all'interno è elettrificata ma ci sono tutti i dettagli anche se l'effetto non è più obbligo puoi ancora vedere che alcune parole hanno iniziato a smudger Kazuha questo è chiaro evidenza che questa città era davvero tamperata qualcuno ha frumato l'Gahidehara tutti quei anni fa vedo ma ho scopo che ho scoperto questo segretto molto tardi quando mio padre era raggiunto ha proposto revivare l'eshin art ho scoperto molte volte ma mio padre era solo scoperto per essere troppo fulgurato l'escrizione l'escrizione della famiglia ho detto che il mio padre anche fu fuori alla Commissione per rinforzare questo diagramma da l'escrizione del Kamisato clan poi ha mostrato questo diagramma a mio padre e ha chiesto lui e i suoi subordinati per provare la spada sicuramente mio padre è anche ho scoperto mio padre poi ha detto ho scoperto ho scoperto ho scoperto Kazuha ho scoperto 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 andiamo andiamo ma prima ma prima prendiamo questo qua questo libro qua e gli altro dovrebbe essere qua un giro ma non c'è un giro penso che si farà vivo adesso perché l'abbiamo visto solo all'inizio quindi penso che dovrebbe apparire in questa situazione l'abbiamo visto dietro la casa nel scorso video sia quello l'abbiamo visto un ninja un ninja di aiuto è molto lontano pensavo devi voler essere a piedi però è veramente lontano bisogna tornare alle nazionalità andiamo ecco si arrivati con il traspetto andiamo subito qua dentro ecco la sua andiamo a chiedere informazioni a lei dettagli vanno lontano lontano Allora, vediamo che di domani. Vediamo che di domani. I just want to investigate them, for a personal matter. I see. All right, I'll inform the police station. They'll take you into the warehouse. Thank you, Sara! Kaedehara, about the vision hunt decree. That's all in the past now, Kujo Sara. There's no need to mention it again. I know you've also had your own convictions and struggles. However, may I ask something of you? Yes? What is it? Currently, I have no plans to stay in Inazuma. As a result, those items from my family's estate are of no use to me. Madam Kujo, I believe you are a person of integrity. After our investigation is over, I'd like to ask if you can handle those belongings for me. Please, sell them. And use the money to help the poor. All right, I understand. I'll be sure to take care of it. We'll come back to the police station. a la stazione di pulizia non so se si è mai stati passate i danni e poi che volta dobbiamo aspettare un momento intanto il caricamento sta caricando penso di non essere mai intatto che sia la prima volta vediamo se troviamo qualcosa trattiamo con camisato a Yata oh, è tu adesso stiamo investigando la scuola di Kairahara è una famiglia di scuola di scuola e questa scuola deve essere super valutante, certo? magari è il traccio dell'arte Isshin non mi ha scoperto anche se la scuola di Kairahara le scuola di Kairahara è una scuola di scuola di Kairahara due a la strade di Kairahara di Kairahara di tutto il valore è probabilmente è già l'attra la scuola di Kairahara non è più ma ci sono molte vari d'uso anche la scuola di Kairahara magari Kairahara usò per la scuola di Kairahara tafasco Oh, sembra di essere un paio di caratteristiche iniziali nella scabbardia. Kazuha. Wow, quindi mi piace veramente Kazuha! Tainan può immaginare cosa Kazuha era come un figlio! Continuo a investigare qui, e ringrazio te se trovo qualcosa di interessante. Bene, passiamo a... Bene. ... 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 Ancora che dobbiamo portare i dettagli del passato, ci sono anche cose che vogliamo chiedere per. Quindi, sapere la verità di quello che ha fatto è sufficiente per me. Io viveremo proprio come mio grande-grandfather ho sperato. Ciò che dicevole, se l'elemento di tutti quei anni fa è ancora pieno e trattando a stirre up più problemi, e io sicuramente non prendo a blinde eye. Questi sono solo inseriti che ho scoperto da tutto che ho esperato. Grazie a tutti per accompagnare me in la scuola per la verità di questo incidente. Grazie, ora che abbiamo finito qui, let's head back to Rico. Bene, noi torniamo a Ritual, andiamo. E così, tornati, andiamo a dipingere l'ultimo. E' un po' st... La sua storia è un po' triste. 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 Se non l'ascosto, è ancora un momento before... Let's do... A prendere... A salutare tutti i nostri... E aiutanti insomma Quindi è 4 ore per fotografare... Autografare tutto... Tutti i libri Come stiamo a Inazuma under the pretext of evaluating a potential investimento se un acquaintance were to see me sitting here there would be no way to hide the truth from my father Fortunately, the crowds of breeders that came flocking over have kept the usual tourists at bay Oh, I should mention... Shu is also unaware of the real purpose of my trip If you happen to meet him, please... Then, please accept my thanks in advance Scusate che non posso parlare più tardi, c'è ancora dei lettori che vediamo in linea. Vi vedo in più alla cerimonia per il portretto Kuro Nushi. Scusate che non posso parlare con uno. Scusate che non posso parlare più tardi. Scusate che non posso parlare più tardi. Scusate che non posso parlare più tardi. Sì, ci sono molte cose che hanno necessitato la mia attenzione. L'esercito, il festival di Iridori sta procedendo lentamente. La Tricommissione si cooperava in più per preparare questo festival. E che finora lo faccio, Toma? E non ho la domanda? Scusate che non posso parlare più tardi. E che finora lo faccio, Toma? E che finora lo faccio, Toma? E non ho la domanda? E non ho la domanda? E è raro per lui mai mettere i suoi obiettivi sull'esercito e rilassare. Quindi, Toma e Dai veramente cerchiamo questi momenti come... Secondo, all'altro quattro. Ora ci sono chiamenzi� Nel quanto,ivo? Allora mi sono diventa... Luizendo Che che? Poi siamo anche solo uno queste qui? che cosa? Poi dentro da la vanta? раз, distrazione Lo vantaggio? Cosa sono? Cosa sono? Cosa sono? Sono vantaggio? Ho! Ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si può vedere la quinta disegna. Eccosi. Alla apertura del quinto disegno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. 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 non è lei non è lei beh proviamo non è lei dai dammi da aviata aviata finalmente lo vediamo che Usando la storia dei 5 Kasin per guidarti sui segreti della famiglia di Kaedehara era il mio tocco personal. Per quanto riguarda il mio approccio di roundabout, beh, è stato qualcosa che... Sì, due a un certo incidente che accaduto prima, ho conosciuto che c'erano più di un occhio riguardo a questi papi. Ciò che Kaedehara Yoshinori ha detto nelle lettere, il clan Kaedehara era subordinato, anche se ha il diritto di sapere la verità. Azzerlo un po' perchè Ligia sta durando quasi troppo. E vabbè, di tu hai dovuto andare via del controllo spazio. Ci sono già 40 minuti. Per quanto riguarda la risposta, la risposta è inoltre in un portretto, quando non c'è nessuno più vicino al portretto. Per quanto riguarda la risposta di rivelare quella risposta. Azzerlo un po' di. Azzerlo. Sì, Spero sia 40 minuti che... siamo qua con il video. Quindi vi saluto. Anche se il prossimo video dovrà solo cinque minuti, più o meno. Bene. Ciao al prossimo video, ciao ciao ! Grazie a tutti.